Con la terra portata sul Brent dai camion sono iniziati lavori veri e propri per la realizzazione della tour che nelle prossime settimane porterà il cantiere sotto le stilate del Ponte Vecchio ancora da restaurare. Il lavoro è complicato dal punto di vista logistico perché l'argine qui è alto e quindi la strada sarà in pendenza. I camion devono fare manovra e poi entrare in retromarcia proprio per non passare da Via Angarano e rendere non vivibile il quartiere. Le manovre necessarie ai mezzi pesanti sono stati il motivo per cui il Comune ha dovuto eliminare alcuni parcheggi temporaneamente. I lavori sono iniziati in ritardo di un paio di settimane a causa del livello alto delle acque del fiume dopo le piene.